L'Università di Camerino tra i primi dieci Atenei italiani per il miglior tasso di occupazione dei propri laureati. Il 93,3% dei laureati magistrali biennali di Unicam, infatti, a cinque anni dal conseguimento del titolo di studio, è occupato. I risultati relativi all'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dell'Università di Camerino sono ancora una volta molto positivi, così come lo sono quelli della loro soddisfazione. Dati che emergono dal 24esimo rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati presentati nei giorni scorsi dal consorzio Alma Laurea. Il tasso di occupazione dei laureati di primo livello che, dopo la conquista del titolo, hanno scelto di non proseguire gli studi universitari e di mettersi direttamente nel mercato del lavoro, è pari al 68,5%. Ad un anno dal conseguimento del titolo, il 77,2% dei laureati magistrali biennali Unicam è occupato e le performance occupazionali migliorano con il trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo raggiunto, appunto, al 93,3%. Estremamente positivi sono anche i risultati sulla valutazione dell'esperienza universitaria e sulla soddisfazione espressa dai laureati. Il 94% dei laureati è soddisfatto del rapporto con il corpo docente ed il 95,6% dei laureati si dichiara soddisfatto dell'esperienza universitaria nel suo complesso. E quanti si iscriverebbero di nuovo all'università? L'85% dei laureati sceglierebbe nuovamente lo stesso corso e lo stesso Ateneo.